Soddisfare i bisogni primari della persona favorendone il benessere e l'autonomia in un contesto sia sociale che sanitario. Questo il cuore dell'attività degli operatori sociosanitari, figure professionali sempre più richieste in provincia di Belluno, non solo in considerazione dell'elevata percentuale di popolazione anziana, ma anche in riferimento alla situazione attuale di emergenza sanitaria. C'è ancora tempo per iscriversi alle selezioni in programma il 15 febbraio al nuovo corso promosso dal Circolo Cultura e Stampa Bellunese, ente accreditato dalla Regione Veneto, che consentirà, previ e superamento di una prova finale, di ottenere l'ambita qualifica spendibile su tutto il territorio nazionale. Il corso prevede 480 ore di formazione teorica e 520 di tirocinio da svolgersi nell'unità ospedaliera di Feltre nelle RSA del territorio. A sentire l'esigenza di questi operatori più che mai sono le tante realtà della montagna bellunese. Abbiamo nel nostro territorio la casa di riposo di Meano, che è una casa di riposo privata, ma come Comuni di Santa Giustina abbiamo sempre collaborato, sempre aiutato per quanto possibile. Sappiamo che questa figura è molto scarsa nel nostro territorio, di conseguenza i numeri devono essere aumentati, anche per prospettive lavorativi di persone che vogliono investire in questo percorso. Quindi come Santa Giustina aiuteremo la diffusione di tutti i corsi OS, anche di questo di cui stiamo parlando, in modo da poter aiutare tutte le realtà, sia ospedaliere che extraspedaliere, che aiutano le nostre comunità.